E' stato presentato il calendario, un calendario unico nel suo genere, non in vendita ma in omaggio a tutti i partecipanti dell'iniziativa e alla città. L'Aquila 6 aprile, cronaca di una rinascita, da dieci anni racconta la città giorno per giorno. E' stato presentato presso l'editorium del Lance in Bialcide De Gasperi, unitamente alla proiezione del documentario Esso Quisso del giornalista Paolo Pacitti, realizzato per Re News 24. E' quello di dare della città dell'Aquila una rappresentazione che non sia stata quella degli ultimi dieci anni. Io l'ho seguita dall'inizio, il 6 aprile del 2009 ero in protezione civile, poi sono arrivato qui all'Aquila, abbiamo cominciato a raccontare. Io ricordo il 6 di ogni mese facevamo comunque qualcosa sull'Aquila in quell'anno. Passando gli anni questo tono non è mai cambiato e allora avevamo pensato di fare un'idea pensando non a un racconto dei dieci anni passati, ma pensare a un ragionamento di prospettiva, immaginando l'Aquila tra dieci anni, vedendo quello che c'era, i monumenti rinati, la città che mancava di un'anima perché puoi fare una Legoland ma poi devi portarci la gente, devi portarci il denaro, devi portarci una popolazione, il sangue nelle vene di una città che scorre attraverso i vicoli. Esso Quisso era il modo per raccontare l'Aquilanità passando attraverso questo racconto fatto di prospettiva. Non è una delle tante iniziative promosse per il decennale del sisma dell'Aquila, il calendario è molto di più. È arrivato alla decima edizione, un progetto già lanciato nel 2009 da One Group, una società di comunicazione e case editrice dell'Aquila. Attraverso immagini e notizie in pillole poste sotto ogni giorno dell'anno, riporta ciò che è successo in quello passato. Un'operazione assolutamente no profit. Ragnaro Pizzi ha messo a disposizione i suoi servizi fotografici, hanno contribuito anche i giornalisti Goffredo Palmerini e Tiziana Grassi e il gruppo di azione civica Iemon Nancy. Sfogliando le pagine del calendario si vede l'Aquila e la sua comunità, una comunità ferita sì ma con tanta voglia di rinascere. E questo è un calendario fatto di tesserine, di tante cose, di piccole cose che ritornano a posto, poi piccole non sono perché la foto di Copertina è dell'emicicolo che è una delle cose più interessanti che si sono viste, un intero complesso monumentale sollevato da terra e messo sugli isolatori. E per dare l'idea del percorso che noi stiamo facendo, come comunità, come terremotati.